eravamo sul viale dei baci ecco tocca a me anche a me il bacio grazie ecco qua abbiamo la coniglietta bacia tutti ecco perché stasera tutte quelle che ecco ecco il pelo sì il pelo da coniglietta sei una pin up? cioè? non lo so quelle gnocche che fanno tipo un penthouse sei una mamma? adottami ti prego adottami 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 sì sono un trovatello come ti chiami? Anna da dove vieni? da Rovereto Riva Del Garda e cosa festeggiate stasera? stasera festeggiamo la festa dei nostri ragazzi che frequentano la nostra palestra e che palestra è? di il nome di il nome non sono fitness Rovereto Riva Del Garda e tu sei la maestra? no io sono la moglie del maestro è qua il maestro? sì è qua a full contact con le robe lì? lui fa di tutto aspetta che mi allontano un pezzo un attimo no aspetta un attimo allora che fai bene di me? allora allora mi fai un piccolo qui un esercizio qua così in diretta? eh sì dai una zumbata qualcosa ti prendo ti prendo in imbarazzo ecco eccolo qua chi è il marito questo? ah lui il maestro è il maestro dei maestri ecco e se mi fai una piccola zumbata qualcosa insomma eh sì qua su due piedi perché ecco guarda guarda come zumba guarda come si a zumba anche col capotto e lui anche lui anche lui a zumba? a zumbati a zumbati anche te eccoci ecco a zumbiamo tutti e tre insieme ecco guarda come si a zumbano ecco qua guarda ecco qua ecco ricordiamo il nome della palestra non solo fitness anche a bocca piena lo dice è bravissimo non solo fitness non solo fitness con il nostro maestro Emiliano e la nostra Anna Anna segretaria possiamo cambiarci perfetto c'è molta gente che si iscrive solo per fermarsi in segreteria tra l'altro non arriva neanche dentro la palestra proprio perfetto amici venite tutti alla palestra non solo fitness però prima al convento ciao ciao